Clarence Sedorf, Glinda, Stefan El Sharavi. Il faraone quest'anno a causa dei tanti infortuni non è riuscito a dimostrare il suo enorme potenziale. Una stagione maledetta per El Sharavi e per il Milan. L'intenzione del club rossonero e del tecnico olandese è quello di rinnovare la fiducia all'ex talento del Padova, un modo per allontanarlo dal mercato e dalle serene inglesi. El Sharavi e il Milan vanno avanti insieme, parola dell'allenatore rossonero. Da valutare invece il futuro di Marc Amelia, il portiere probabilmente a fine stagione lascerà i rossoneli e per il futuro sogna l'approdo nella sua amata Roma. Galliani per il futuro studia il profilo di un ala classe 96 del Benfica. Si tratta del promettente Gonzalo Guedes che ha una valutazione molto alta e su di lui ci sono anche top class come Bayern e Arsenal. Intanto il Benfica, prossimo avversario della Juventus in Europa League, lavora al rinnovo del suo contratto.